Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, nextgen e allgen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per playstation E adesso al nuovo video Bentornati raga Qua è Savix che vi parla Allora ragazzi oggi aggiornamento settimanale veicolo del podio del casino ragazzi abbiamo la Sugoi Che come al solito potete prenderla gratis con il glitch della ruota che vi lascio in descrizione qua sotto ragazzi Dopodiché passiamo agli aggiornamenti Vi voglio dire che questa settimana abbiamo la disponibilità per i giocatori normali del circa del 18% di probabilità in più Per trovare i diamanti nel colpo al casino ragazzi E avremo anche le missioni free mode del colpo al casino ragazzi con gli RP tripli A questo punto possiamo andare direttamente a LS auto raduno e vediamo cosa abbiamo sul podio Quindi abbiamo la Xeon classic ragazzi che come al solito bisogna classificarsi tra i primi 5 in 3 giorni nelle gare DLS Dopodiché come veicolo di Aua abbiamo la Astron ragazzi Poi abbiamo come veicoli di prova la Neo ragazzi che io questa macchina l'ho anche droppata Abbiamo la Trax che io non la sopporto più sta macchina novi 6 di tutti i tipi E poi abbiamo ragazzi la Emerus A questo punto possiamo anche uscire da LS auto raduno ragazzi E possiamo partire con le attività con gli RP doppi e tripli Quindi partiamo dalla categoria gare ragazzi Gare a ruote scoperte Era una vita che non le aggiungevano Hanno messo finalmente gli RP doppi su questa tipologia Ne approfittate se volete partecipare all'evento che facciamo questa domenica o l'altra Seconda di quanti partecipanti ci sono ragazzi Per vincere 50 milioni nell'evento gran premio 50 giri ragazzi Quindi potete allenare questa settimana con gli RP doppi Dopodiché possiamo passare alla categoria missioni ragazzi E hanno messo queste missioni con gli RP doppi e tripli Quindi ragazzi a questo punto possiamo andare su leggendari Come veicoli scontati Questa settimana abbiamo la Lampadati ragazzi scontata Dopodiché abbiamo anche scontata la Rebla Io sta macchina non la sopporto Abbiamo la Emerus scontata La Neo scontata La Trax non ne parliamo prima La potrebbero pure cancellare dal gioco ragazzi Dopodiché sul sito di leggendari non abbiamo più nulla Adesso passiamo a Sound Andreas ragazzi Dove avremo la Nagasaki scontata ragazzi Poi avremo la Maxel Vagrant Per chi vuole montare Servono le livree e questo va bene Oppure c'è la Anis che sta macchina è orribile La Nebula Turbo che fa cagare ragazzi Abbiamo il Kakara che è decente Dopodiché su Sound Andreas non c'è più nulla Passiamo alle gare a tempo raga Abbiamo la gara con il RC Bandito che si trova in questa posizione Dopodiché abbiamo la gara di Aoi esclusiva Next Gen in questa posizione E poi la classica gara a tempo quella da 100.000 in quest'altra posizione ragazzi Non vorrei dire una cazzata ragazzi Controllate fatemi sapere nei commenti Ma dovrebbero esserci anche le modifiche per l'attico di lusso Scontate ragazzi Controllate e fatemi sapere Io vi saluto Spero che i miei video vi piaccino Raga lasciate un like Lasciate un commento Supportate Exavix E sbada bam Raga al prossimo video Ciao